Oltre mezzo chilo di cocaina, merce che al dettaglio vale tra gli 80 e i 100 mila euro. È questa l'entità del sequestro di stupefacenti effettuato ieri da una pattuglia del nucleo radiomobile di Verbania. A fondo toce l'arma ha fermato una vettura con a bordo mamma e figlia di 40 e 19 anni residenti in provincia di Bergamo, notando che la donna più grande aveva un atteggiamento sospetto e cercava di nascondere qualcosa sotto la cintura dei pantaloni. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.